Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. In calo il numero di vaccinazioni anti-Covid, una diminuzione prevedibile secondo il responsabile del Lab Vaccinale di Teramo, anche se qualcuno ancora segue le direttive e se appartenente a determinate categorie si fa somministrare la quarta dose. Siamo in calo, ma questo era prevedibile, l'avevamo previsto. Io direi anche che sono un po' sorpreso perché i numeri sono bassi. Comunque qualcuno continua a venire, vuole fare il secondo booster per le categorie, quelle che sono raccomandate, quindi c'è una piccola fede della popolazione che segue le raccomandazioni scientifiche, mentre la maggior parte delle persone aspetta il vaccino, quello aggiornato, quello che si dice che verrà a settembre-autombre. Intanto si aspetta un aggiornamento nel vaccino, visto che i dati sono sempre in continua evoluzione, contando che si studiano ancora gli sviluppi del Covid-19. Innanzitutto la raccomandazione è quella di ogni anno di fare il vaccino anti-influenzale classico. Noi aspettiamo il vaccino anti-Covid, quello aggiornato. Si parla di una dose, ma anche qua dobbiamo essere molto cauti a dichiarare questo, perché ricordo che abbiamo cominciato la campagna vaccinale dicendo che con il vaccino mRNA, anche con gli altri, a parte uno, il ciclo vaccinale era fatto di due dosi. Poi abbiamo scoperto che serviva il booster e per alcune categorie anche il secondo booster. Quindi ad adesso abbiamo certe basi scientifiche e l'orientamento è questo. Però dobbiamo sempre sottolineare che sono dati in continuo aggiornamento. Quindi noi siamo pronti a percepire l'evoluzione e ad adattarci. Per quanto riguarda invece la quarta dose, adesso hanno incominciato alcune categorie. Come diceva, i dati sono in continua evoluzione. È possibile che si arriverà a una quarta dose per tutti? È una delle possibilità. Qualcuno dice che questa dose da settembre in poi sarà dedicata a certe categorie, qualcun altro dice che sarà per tutti. Allora, quando dico qualcun altro intendo persone che studiano, persone molto molto competenti e dico questo per dire che anche loro che fanno questo da una vita hanno difficoltà di prevedere, perché il Covid non c'era, è una malattia nuova. I dati sono in continuo aggiornamento che i dati, quando parlo di dati, parlo sia di dati che riguardano la medicina, ma sia le nuove varianti del virus stesso.